Ciao amici, nuovamente qui, siamo di nuovo in viaggio, Royal Hotel Sanremo, 5 stelle lusso, hotel molto importante a Sanremo, shooting fotografico abbastanza particolare che ci vedrà coinvolti due giorni, abbiamo programmato delle cose interessanti per lo staff per la struttura in sé, che dire, una cosa molto particolare, un hotel a struttura veramente molto grossa da quello che abbiamo potuto vedere online, ci siamo documentati su che cos'è Royal Hotel Sanremo diciamo che da fare ce n'è, ce ne sarà veramente tanto, quindi ci sono delle sale, delle suite veramente molto molto importanti e daremo il nostro meglio, daremo il meglio di noi, è giusto come sempre, ciao, ci vediamo, ciao cari